Salve per la grande bellezza dell'adolescenza, ci troviamo a Cicciano per una delle feste più importanti del territorio ciccianese, ovvero il Palio dei Quartieri. È una festa importante di rievocazione medievale, infatti ogni primo dell'anno gli attuali comuni di Nola, Cimitile, Saviano e San Paolo Belzito portavano dei doni al commendatore di Cicciano, soprattutto dolci e spezie del territorio campano. E infatti la pratica dello scambio dei doni è appunto una delle chiavi più importanti del Palio creato per dimostrare l'amicizia dei quattro comuni. Oggi ci troviamo qui e soprattutto, come vedete, insieme ai tamburini per esaltare ancora di più questa rievocazione medievale. Sentiamo ai microfoni di TV Trebaiano cosa hanno detto e le emozioni che ci faranno intuire le castellane di turno. Ci troviamo con Carmen, una delle future castellane 2018. Carmen, quanti anni hai? Io ne ho 16. Allora, come si uniscono queste due realtà? Il moderno con il passato e la tradizione? Beh, diciamo che si fondano anche molto bene questi due mondi, nonostante siano diametralmente opposti. Anche se in realtà non è che sia tanto bravo in tecnologia, tant'è che molto spesso io i computer li rompo. Però se mai dovessi ritornare in questi tempi così lontani forse non mi troverei così tanto bene perché oramai mi sono abituata e tutto così. È molto più comodo, diciamo, rispetto a com'era allora, ovviamente. E parlando appunto di tecnologie e di tempi moderni, tu sei giovanissima, sei un'adolescente. Cosa significa per te avere questi anni, quindi essere nel pieno dell'adolescenza e cosa vuoi fare successivamente nella vita? Sinceramente non ho ancora capito che cosa sia l'adolescenza, anche perché ci sono già dentro, però è un continuo pensiero. Mi sento sempre piena di dubbi, piena di domande, però certe volte pensando cerco di ritrovare le risposte. Per quanto riguarda il futuro diciamo che è la stessa cosa, perché sono molto dubbiosa, infatti ho intenzione di fare due indirizzi completamente diversi, una che è quella della medicina e un'altra che è quello là delle lingue straniere. Quindi sono ancora molto molto confusa. Allora grazie mille a Carmen, auguri per il tuo futuro e soprattutto per poter essere la nuova Castellana 2018. Ci troviamo con Sabrina, una delle future Castellane riferite appunto alla festa del Palio dei Quartieri. Sabrina, cosa significa per te partecipare a questo evento così importante sia per il territorio che per i cittadini? Cosa ti ha spinto ad essere Castellana? Allora in realtà io questa festa l'ho sentita molto vicina sin da quando ero piccola, infatti ho partecipato anche negli anni precedenti alla varia sfilata. In realtà è stata una mia amica diciamo ad avvicinarmi al diventare Castellana e mi ci sono avvicinata principalmente per divertimento, quindi è così una prova per sentirsi un po' diversi. Tu sei giovanissima, si vede, sei bellissima. In questa fase difficile che è l'adolescenza, è un periodo di transizione, lo si sa. Cos'è che vedi nel tuo futuro? Che cosa vuoi fare da grande? Che prospettive hai? Allora io da grande vorrei diventare un medico in quanto la passione diciamo per più che altro per il corpo umano. Mi piacerebbe ispezionare, conoscere vari organi anche perché poi mi piace la biologia, la chimica e quindi mi sento vicino a questo campo. Grazie mille Sabrina per essere intervenuta oggi con noi. Ci troviamo con Rossella e Maria Rosa, future Castellane 2018. Allora quali sono le vostre emozioni a partecipare a questo evento di rievocazione medievale e in quanto tutte e due siete giovanissime, cosa volete fare nel futuro e cosa volete appunto diventare una volta grandi? Io sono molto emozionata anche perché è la prima volta che partecipo a una tale esperienza e appunto alla vittoria come in ogni gara. Anche da grande mi piacerebbe partecipare a qualche concorso e soprattutto fare parte di aziende cinematografiche come attrice o qualcos'altro. Quindi sempre nel mondo della cinematografia. E invece tu Maria Rosa? Sì, anche io sono molto emozionata perché è anche per me la prima volta partecipare a questo concorso e credo che comunque sia da prendere come un gioco, l'importanza è divertirsi e poi se si vince meglio ancora. Però l'importante è divertirsi. Io frequento il liceo classico e non so ancora bene cosa vorrò fare da grande, però ho diversi hobby tra cui suonare la chitarra. Quindi mi piacerebbe coltivare questo hobby e poi ovviamente continuare a studiare. Grazie mille a Rossella e Maria Rosa e in bocca al lupo a entrambe. Ecco altre due castellane, Rosa ed Angela. Allora cosa significa, che emozioni provate nel partecipare a questa diciassettesima edizione del Pario dei Quartieri e soprattutto indossare questi abiti, che significa sia dal punto di vista del materiale che è abbastanza pesante ma anche dal punto di vista del ricordo perché comunque è una rievocazione del passato quindi del periodo medievale? Beh, diciamo che sotto il punto di vista del materiale questi vestiti sono abbastanza pesanti e indossare di questo periodo abbastanza estivo fa diciamo un certo effetto perché fa molto caldo. Però anche se si ripensa a livello storico che comunque ci sono state persone che indossavano veramente questi vestiti, è bello in un certo senso essere nei loro pagni e quindi è una bella emozione, è un po' strano però è bello. Dal punto di vista storico diciamo ci fa ripensare, ci fa ripercorrere il passato quindi appunto è un'emozione far parte, diciamo vivere un pezzetto di vita che hanno vissuto loro in precedenza. Dal punto di vista del tessuto beh, si fa leggermente caldo però non sopportiamo. Voi siete due giovanissime ragazze quindi fa un po' strano vedervi con questi vestiti di ritornare un po' nel passato ma se poteste, voi sareste felici di vivere nel medioevo in questi grandi ambienti, grandi palazzi e tornare un po' indietro nel tempo? Sì assolutamente sì, poi soprattutto perché nel medioevo ci sono stati maggiori artisti quindi bellissimo, io poi adoro l'arte e veramente sì io vivrei un'altra volta, cioè proverei a vivere nel passato. Tu invece Angela? Sì, proverei a vivere nel passato giusto per capire come era la civiltà prima, come funzionava, come si viveva perché dicono sempre i nonni, i bisnonni che prima si viveva meglio e quindi vorrei provare a vivere meglio come dicono loro. Grazie mille Rosa e Angela. Diamo il benvenuto ad Antonietta Covone, presentatrice dell'evento. Chi è la Castellana nel periodo medievale? Allora la Castellana, scusami, io sono abituata a tenere il microfono in mano appunto proprio perché sono presentatrice. La Castellana è una donna matura, una donna che nel medioevo veramente la donna era considerata quasi una tragedia soprattutto per i papà perché dovevano provvedere per la loro dote quindi praticamente veniva custodita male, vestita male, nutrita male. Ma le Castellane sono coloro che praticamente mandavano avanti la tenuta, la casa, proprio in vista quando i mariti andavano in guerra e quindi praticamente la Castellana ha cominciato ad avere la sua autonomia in seguito a questi momenti in cui il padrone di casa lasciava la tenuta per andare in guerra. Quindi loro guidavano e sorvegliavano anche la tessitura ma partecipavano anche in pieno. Addirittura c'erano anche donne castellane che potevano andare anche a giocare, andare a cavallo e addirittura anche andare proprio a caccia. E a proposito appunto di Castellane, qui ci sono tre pretendenti a questo ruolo. Cosa significa partecipare a questo evento? Che emozioni avete provato anche perché siete giovanissime? Quindi come vi siete avvicinate al palio dei quartieri? Allora per me è molto emozionante perché è anche la mia prima volta e io mi sono avvicinata perché è una delle signore che si occupa delle Castellane è una parente di famiglia e quindi grazie a lei mi ha proposto di fare la Castellane e ho accettato. Allora io invece me l'ha proposto un'amica e sono stata molto felice di accettare anche per me la prima volta e sono molto emozionata. Tu invece? Anche per me è la prima volta, sono emozionata come appunto tutte le altre e anche a me tramite un'amica che mi ha portato a fare questo percorso e quindi siamo felici di partecipare. Grazie mille. Ci troviamo con Pietro Bernardo, presidente della Proloco. Cosa significa aver organizzato nuovamente la diciassettesima edizione del palio dei quartieri e che emozione prova a essere nuovamente presidente per questo evento? Allora io quest'anno è il quarto anno che faccio da presidente a questo gruppo che ce la mettiamo tutto ogni anno per organizzare, è sempre più difficile perché le persone invece di avvicinarsi si allontanano un attimino. Poi tutti alla fine vogliono il palio, arriviamo alla fine che abbiamo delle persone che ci hanno detto di no all'inizio, poi vengono, si vogliono vestire, vogliono fare il corteo. Quindi noi ci proviamo ogni anno. Io il mio mandato scade ad ottobre, cercherò di essere presidente per altri quattro anni se loro mi vogliono, noi cerchiamo di portare avanti questo discorso perché come ha detto prima la nostra signora, noi portiamo un po' indietro il passato perché il nostro passato ci può catapultare in un futuro migliore, quindi noi ci proviamo sempre. I progetti futuri, qualora fosse ancora lei il presidente dei prossimi anni, quali sono? Noi come progettazione abbiamo anche, io personalmente sono appassionato di sport, vorrei fare una scuola calcio pro loco per quelli lì che non hanno la possibilità di andare nelle scuole calcio dove si pagano delle rette maggiori. Poi abbiamo un corso di chitarra che ancora stiamo frequentando con pochi ragazzi però stiamo continuando perché poi alla fine vedremo altri progetti da fare perché noi come facciamo presentazione di libri perché anche la nostra cultura pro loco è la promozione del luogo anche culturalmente, quindi ci stiamo impegnando. Ci credono poco le persone ma noi ci crediamo e quello è l'importante poi gli altri devono venirci dietro, per forza. Grazie mille al presidente della pro loco Pietro Bernardo. Un saluto a tutti, quest'anno avremo una presentatrice di recessione, la nostra Antonietta, vi aspettiamo. Grazie mille. Siamo insieme con le signore della pro loco, cosa significa organizzare un evento così importante sia dal punto di vista della festa, quindi la fatica, ma sia dal punto di vista del ricordo di una festa così importante? È importante perché noi attraverso questa manifestazione vogliamo avvicinare i giovani alla nostra storia al ricordo del... perché con questa manifestazione noi andiamo indietro nel tempo infatti abbiamo degli studiosi che con i caprei hanno riportato indietro la storia di Cicciano nel 1500 fino adesso e vogliamo che i giovani si appassionino a questa portando avanti le tradizioni del nostro paese. Naturalmente è faticoso perché le ragazze sono un poco scettiche, un poco timide organizzare è un po' quella fatica però è dopo da soddisfazione. Questa è, se non erro, la diciassettesima edizione. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto agli altri anni? Delle difficoltà in più? Cambiamenti no, quest'anno abbiamo deciso di cambiare il sistema di voto. Fino adesso c'è una giuria tecnica, adesso invece c'è la giuria popolare. In piazza saranno il popolo con un criterio scelto a caso, cioè insomma che voterà e quindi decretterà la vincitrice del concorso. Grazie mille alle signore della Proloco. Grazie. Ci troviamo con Teresa e Carmela. Cosa significa essere tamburine per la diciassettesima edizione del Palio dei Quartieri? I pro e i contro di partecipare a questa festa di rievocazione medievale, quindi fare un salto nel passato? Allora i pro di questa manifestazione ovviamente sono che stiamo al contatto con le persone, ci divertiamo e ogni tanto ci sfoghiamo anche un po' suonando. Invece i contro sono ovviamente che è un impegno che noi facciamo, quindi dobbiamo stare sempre attivi e ovviamente studiamo un pochettino, però non è che è una cosa che ci dispiace fare. Teresa tu invece sei un'altra delle tamburine di questa sera, allora facci sentire un po' la tua performance serale. Si conclude qui dalla Proloco di Cicciano la puntata speciale della grande bellezza dell'adolescenza e abbiamo seguito insieme la proclamazione delle future castellane 2018 del Palio dei Quartieri. Grazie. Grazie.